Ok, ok, gliele possiamo dare Seguiamola, seguiamola Poverina, sta iniziando a dire uccidere, uccidere, uccidere È totalmente impazzita Abbiamo rovinato la povera ragazza che stava nel terrazzo ogni giorno L'abbiamo rovinata Guarda bei capelli che fine le hanno fatto Poverina, poverina Adesso vediamo cosa combina Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questo giorno giocheremo a Yandere Simulator E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Simon04, Distruttore, Yulz, Claudiosa, Maria Grazia e Robert Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione E vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E per questo episodio di Yandere ci avete proposto davvero tantissime cose I commenti sono stati una cosa assurda ragazzi Sono stati davvero troppissimi E' stato fantastico vedere tutte le vostre proposte Esattamente Ne abbiamo dovuto selezionare un po' perché erano davvero troppi Ma di sicuro recupereremo anche tutti gli altri Diciamo che li abbiamo suddivisi in alcuni veloci veloci da provare E in alcuni un po' più complicati Un po' più strutturati che sarà difficile da provare Io non vedo l'ora Non vedo l'ora, sono felicissima Ma prima Perché secondo me, aspetta fammi dire Questo episodio sarà fantastico I commenti che ci hanno fatto E le cose da provare che ci hanno proposto Sono davvero fantastiche Anche io non vedo l'ora di provarli Iniziamo su Ah no 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 Devi parlare di una cosa importante Vai scusami Esattamente E' uscita la nuova patch E ci sono due cosettine carinissime Che vi vogliamo far vedere proprio al volo Al volo Allora Che io l'ho notata subito appena siamo entrati nel gioco Guardate Le scarpe Le scarpe Sono diverse E c'è un motivo Adesso ve lo facciamo vedere Non appena arrivano gli studenti Che sono un po' in ritardo Dove siete? Veloci Guardali Guardate Adesso arrivano tutti insieme E non più un po' alla volta C'è qualcuno sopra l'altro Si Si stanno scavalcando Oh mio dio Un plotone di gente Un plotone di persone Fanno paura Sembra l'ingresso a un concerto Quando tutti vanno davanti Per vedere il cantante Capito? Oh mio dio Qua si potrebbe fare uno sterminio di massa Peccato che c'è la professoressa di ginnastica Che controlla E guardate Adesso cosa fanno? Si cambiano le scarpe Proprio come nelle scuole giapponesi Hanno aggiunto questa cosa qui Ed è troppo figa Anziché rimanere fermi davanti agli armadietti Adesso cambiano le scarpe Le possiamo cambiare pure noi Vero? Sì Perché anche noi abbiamo queste scarpe Dobbiamo trovare però il nostro armadietto E sinceramente io ricordo che era qua Ma no Perché qua c'è il senpai Non mi ricordo dove è il nostro armadietto Mi dispiace Secondo me è tipo qua agli inizi Agli inizi di questa fila Qui Io mi ricordo qua Ok sì 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 Ecco E infatti vedete Anche noi abbiamo le scarpe E beh scusate Ma l'educazione è entrare con le scarpe Esatto Da fuori dentro la scuola Quindi rispettiamo le tradizioni giapponesi Ti ricordi che nello scorso episodio Non siamo riusciti a far fuori la professoressa? Sì Bene Ci hanno detto che c'è un modo Ok Ovvero usare la mod Travestirci da One Punch Man E darle un pugno E farla fuori Ah Mi piace dare i pugni Allora One Punch Man qual è? O Mi sembra giusto Guarda che bella Yandere Guardala Che carina che sei pelata Non sta molto bene pelata Però è divertentissimo Ma sei tipo What up What up Ok stavo provando E adesso credo appunto Che dandole il pugno La facciamo fuori Vai Vediamo Salve professoressa Salve E stiamo È un cosplay È un cosplay Ha visto che hai un costume E per correre più veloci Spim Oh mio Dio È uscita fuori Dove è finita? È scomparsa L'abbiamo disintegrata Disintegrata Allora Però a sto punto Io voglio vedere un attimo Una cosettina Che mi è sorto il dubbio Ok No la professoressa È vero che non ci sono più Perché hanno fatto l'aggiornamento Vedete Adesso sono tutte qua a lavorare Quando poi iniziano le lezioni Si alzano E vanno nella classe Ma stima sta cosa Mi piace un sacco Questo aggiornamento È davvero davvero Fino Scusi Oh mio Dio Ma le disintegrate Scusi È lì sopra È quella incastrata nel muro Guardala Oh mio Dio Scusi Quella nel condizionato Nella presa d'aria Sto facendo un'opera d'arte Allora Aspetta che devo mirare Anche quelle altre tre Beh beh ti prego Ti prego Ho una cosa da dirle No l'ho mancata Il muro delle professoresse Oh mio Dio Ok Non ce la dovevate dire Questa cosa di One Punch Man Non ce la dovevate dire Noi ci lasciamo prendere la mano Con queste cose Il degrado Ok Sono molto Sono molto soddisfatto Allora io ti dirai di fare una foto Perché questo è davvero Un ritratto Bellissimo Guarda Un capolavoro Contemporaneo 10 su 10 Seconda cosa da provare Ok Ce l'ho detto di rubare l'anello Alla ragazza che sta nel terrazzo Ti ricordi che l'avevamo già rubato Per incastrare cocona Sì Per fare spellere cocona Bravissimo Ok E di portare questo anello Sotto l'albero di ciliegio E hanno detto che succede qualcosa Io non so cosa succederà Quindi andiamo a provare Ok Allora prima di tutto andiamo in classe Così diventa l'ora di pranzo Ci potenziamo biologia Così tanto per Così perché ci piace la biologia Non è vero però ok Ok a questo punto noi andiamo appunto qui Aspettiamo che arrivi a mangiare A quel punto ci prendiamo l'anello Se ti ricordi quando pranzo si leva l'anello Noi facciamo finta di niente Ce lo mettiamo in tasca Velocissimi Esattamente Usiamo un pochettino questo Per far passare più in fretta al tempo Perché altrimenti ci fa aspettare Una vita e mezzo Eccola qua E lei vero? Sì sì Se non ricordo male è lei La ragazza con i capelli viola Aspetta appoggia il tuo bellissimo anello Ok grazie Adesso pensa a guardare davanti Il tuo bellissimo pranzo Andiamo a chiedere come sta Bella giornata oggi Grazie Ciao ciao Ok corriamo sotto l'albero di ciliegio E vediamo che succede Sono curiosissimo Sono curiosissimo Questa cosa non la conosco Sono davvero curiola Aspetta Hai sentito? Hai sentito? Qualcuno che ha detto Blood È ring Perché? Cos'è questa cassetta? Non lo so Però perché è proprio Blood Ring? Cioè come dire che quel sangue Quell'anello Porta del sangue Perché magari quella ragazza Come su un omicidio? Può essere qualcosa del genere Perché Questa voce appunto Che ha detto così Sembra una sorta di spirito Qualcuno che magari È stato ammazzato Per via di quella anello Magari sotto la collina C'è un cadavere E nei prossimi video Potremo andare a spalare la collina E trovare il cadavere Ma io lo spero E incriminarla Sarebbe figo Guarda se azzecchiamo questa cosa Siamo di geni La devono fare per forza La devono fare per forza È stato molto inquietante Guarda ti dico la verità È stato molto inquietante Sentire quella voce Terza cosa da provare Qua si fa difficile Questa Questa sì Sarà un po' più complicata Allora Dobbiamo rapire una persona Dobbiamo torturarla Far scendere la sua sanità mentale A zero Dopodiché tornare a scuola E darle un'arma E guardare quello che succede Non so cosa succederà E inoltre dovremmo Rapire Provare perlomeno A rapire un maschio Per vedere se fa Esatto Perché un'altra cosa Che ci hanno chiesto di provare È proprio questa Quindi noi diciamo Che abbiamo unito Queste due cosettine E proviamo a rapire Un ragazzo Non lo so se farà Sinceramente non ne ho La più pallida idea Ma ci proveremo Scusi infermiera Ho mal di pancia Posso mettermi qua Un attimino È una coincidenza Che ci sia una siringa Dovresti stare nel lettino Però non lì nella sede Comunque questa infermiera Secondo me È la nostra complice Non ci credo Che fa finta di nulla Ogni volta Non si rende mai conto di niente È un po' sospetta Come personaggio È davvero sospetta Anche secondo me Allora Facciamo così Andiamo nel cortile Anche se forse È l'ora di pranzo Infatti non c'è nessuno Da queste parti Chi rapiamo Chi rapiamo Sono curiosa Un maschietto a casaccio Un bel ragazzo Quindi adesso Entriamo in un bel club Il primo bel ragazzo Che vediamo Ce lo portiamo dietro E lo rapiamo È molto brutto Da dire così È molto brutto Però faccio sapere Suona molto male Lo faccio sapere Direi che questo ragazzo Può andar bene Sì mi va bene Dai È un bellissimo fanciullo Allora Ti chiediamo un favore Seguici Dai dai Vieni con noi Puoi andare Una bella ragazza Non potrà mai dire di no Sì ma poi comunque Uno che fa karate Si saprà difendere Tranquillamente Quindi è sicuro di sé Contro il tranquillante Non ti puoi difendere Neanche con le tue mosse Da karate Io te lo dico Te lo dico Preparati perché Mo' ci spacca la faccia Adesso secondo me Ci distrugge Vedrai Vedrai Andiamo qui dentro Cos'è questo posto Vedi che c'è del formaggio Per un topolino Non ho capito Che è quella La tana di un topo Ma che hanno aggiunto È una cosa nuova Non lo so Facciamo finta di nulla Facciamo Però sì Era una trappola per topo Con la sua tana Non ne ho mai sentito parlare Però non c'è nell'aggiornamento Quindi probabilmente È soltanto una cosa Che noi non conosciamo Qua ci sono i bagni Non ne ho la più quali d'idea Bel giovanotto Ci segua Vieni vieni Ci segua Ci segua Vieni dentro No Ogni volta Anche l'altra volta La professoressa Vi ha fatto questo Questo pastettino falso Ce la fai? Ok Ok Perfetto Ogni volta mi fa una paura incredibile Anch'io Ho paura che stia scappando via Invece poi torna È un po' strano Poi stiamo chiudendo la porta E poi What's up? E l'abbiamo fatto fuori L'abbiamo fatto fuori Penso che non si possano rapire i ragazzi Che ne dici? Sì Io lo interpreterei in questo modo Quindi rapiamo una bella fanciulla Ci siamo accorti Che abbiamo potenziato chimica Invece che biologia Colpa nostra Ma questo qui ragazzi Ha dei cuoricini Io non so se sei innamorato di noi È normale Pensi che sei innamorato di noi? Allora Adesso dovrebbe funzionare Abbiamo biologia portata Portata in alto Quindi ce la dovremmo fare A farlo addormentare Attento Attento No Ma che cavolo E infatti Infatti vedete qua a sinistra Che ce lo considera come follower non valido Insomma Quindi Perché abbiamo la X sopra Quindi non si può rapire un ragazzo Esattamente Peccato vabbè Rapiremo una bella fanciulina Noi ci abbiamo riprovato Pensavamo fosse stato un errore nostro Avendo maxato la Esatto La materia Sbagliata E invece non fa Rapiremo una ragazza Ok E adesso dovrebbe essere lì Ma perché ogni volta Hanno i capelli di colore diverso Ogni volta che li rapiamo Cioè le sono diventate i capelli grigi Ho notato Non possiamo fare una foto Ok Allora Un'altra cosa che ci ha detto che farà comodo proprio in questo momento È che se noi premiamo X La sua sanità mentale scende Lo vedi? 10% ogni volta Guarda come sta impazzendo Come sta iniziando a passire Sì questo è comodo Altrimenti ci avrò messo tantissimo tempo Quindi vai Dobbiamo farla scendere a zero Deve impazzire Guardala è sempre peggio 10 Deve impazzire totalmente E zero Totalmente K O Guarda la faccia Totalmente K O Sembra totalmente ipnotizzata E adesso è arrivato il momento Le dobbiamo dare un'arma E vedere che cosa combina Dov'è? Eccola Le sono tornati anche i capelli verdi Ti farei notare che probabilmente in quel semi interrato c'è un cambio di capelli Esatto Tieni Tieni Come gliela diamo? Credo che basta No che ci sta per notare Buttala buttala da qualche parte Ok Ok Oh mio dio Ok Probabilmente adesso noi prendiamo un'arma Prendiamo queste che sembrano carine Ok ok gliele possiamo dare Seguiamola Seguiamola Poverina Kill 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 Uccidere 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 E' totalmente impazzita Abbiamo rovinato la povera ragazza che stava nel terrazzo ogni giorno L'abbiamo rovinata Guarda i capelli che fine le hanno fatto Poverina Poverina Adesso vediamo cosa combina Vediamo cosa combina Dove sta andando secondo te? A far fuori qualcuno ovviamente Pensa quanto è inquietante Cioè io vedo una cosa del genere E inizio a scappare correndo come se non ci fosse un domani Però questa è una bella cosa Perché possiamo portare le altre persone ad ammazzare per noi Se ci pensi è una cosa che su di andare può far comodo Eh sì senza dubbio Così non rischiamo di avere a che fare con la polizia Non toccare il senpai Grazie Meno male Secondo me ci passa Cocona Anche secondo me Attenzione Ci passa sempre Cocona E infatti E infatti ovviamente è sempre Cocona Che si diverte così Con questi scherzi che le vengono fatti ogni giorno Sì però mi sa che abbiamo buggato qualcosa Perché la gente intorno è tranquilla E loro sono Che succede? Sta facendo cose strane Mi sa che Oh mio dio Ragazzi È successa una cosa stranissima Oh mio dio È successa una cosa stranissima Cioè allora aspetta 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 Ha attaccato Cocona Però Cocona non è morta E alla fine si è uccisa lei stessa Allora lei ha ammazzato Cocona Ok E poi si è suicidata Cocona Se tu vedi Vedi che non ci possiamo parlare Perché in realtà è morta Solo che Non so Abbiamo buggato anche Yander Esatto Ragazzi era l'unico gioco che mancava Dovevamo riuscirci Ragazzi Cioè certo che ci dobbiamo fare Certo Eh boh Ultima cosa da provare Ci avete detto di vestirci Da Ebola Mod E infatti siamo vestiti Ok Entrare nel drama club Metterci dei guanti Che troveremo lì dentro Suppongo E vedere cosa succede Non è la più pallida idea Quindi staremo a vedere Ma si intende Far parte del club E poi mettere i guanti O basta metterci i guanti Allora Prova a far parte del club No proviamo prima a metterci i guanti No Ok non possiamo Non puoi Vedi non puoi toccare le cose Così ci toglie il dubbio Scusi non la vorrei ammazzare Entriamo nel club Ma non penso che lo puoi ammazzare Mi sembra molto robotico Molto Molto qualcosa Ok siamo nel club Quindi adesso ci possiamo mettere i guanti Chissà cosa succede Non ho un'idea Vediamo Mettili Mettili Ok E che succede? Niente Boh Non è successo nulla Io mi sono messo una bella mascherina Per Non so abbiamo sbagliato qualcosa Non lo so C'hanno semplicemente dentro di Ok stiamo facendo fuori tutti Di mettere questi guanti Ma non lo so Non è successo niente Non credo sia cambiato nulla Perché appunto Quando si passa vicino Con questa mod Si ammazzano le persone Infatti ho controllato anche quello Non è successo nulla Quindi Nel caso fateci sapere nei commenti Cosa doveva succedere Non lo so Boh Non credo che abbiamo sbagliato nulla Perché Era abbastanza semplice Che tristezza Però abbiamo una bella mascherina Guarda che carini che siamo Bellissimi Ok ci fermiamo così Ovviamente nei commenti Iscriveteci tante altre cose da fare Non vediamo l'ora Cercheremo di farle tutte Cercheremo di farle tutte E di recuperare anche le altre Per farne il più possibile Esattamente Troppo divertente comunque È una figata pazzesca Provare queste cose Mi piace troppo Anche a me Anche a me Mi mette una curiosità assurda Vedere se le cose funzionano Oppure no È davvero divertente E prima di finire il video Dato che tu stai facendo pure Queste bellissime foto macabre Andiamo a salutare Che succede? Vedi che Davanti al telefono Vediamo qualcosa In questo momento Che però poi nel telefono Non c'è È la maschera Penso che Stia mettendo il telefono Sotto la maschera Comunque Continuo E andiamo a salutare I nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Francesco Cecilia For or Pro Freyde Miko Azzune E Zetta E Reni Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video dice così Se vi è piaciuto Ascettaci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao